Ciao a tutti ragazzi bentornati su questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Brawl Stars per la prima volta nel canale Allora per chi non lo sapesse questo gioco è il primo gioco che ho portato su Youtube Voi adesso mi stanno chiedendo ma come il primo gioco non è StumbleGuys Si è StumbleGuys su questo canale però Io ho avuto già un altro canale si chiamava Zombie99 Poi ho avuto Airspace e vabbè poi sono andato avanti Eh ho visto uno Ok Per chi non lo sapesse Questa modalità è tipo battaglia reale È tipo battaglia reale ci sono delle casse se tu le spacchi ti danno dei power up Allora Andiamo alla lobby Andiamo a fare un'altra modalità Direi di andare a fare football Football Scusate Football sarebbe un calcio Però Però non si uccide insomma Però se tu hai la palla non puoi sparare Ovviamente tutto questo lo sto dicendo per chi non ci gioca insomma Oh bravo Cioè a parte che adesso sto giocando in una posizione scomodissima Nooo Mira che ha segnato Vabbè non qua fa vedere i momenti migliori Vabbè meno 5 coppe niente di che No non mi voglio fare fotobrawl Facciamo di nuovo Battaglia reale fake Sopravvivenza Che poi qui ricupire vita senza niente Senso pure Ah Prima non l'ho raccontato Vi ho detto che ci sono delle casse Con dentro dei power up Questi power up se voi li prendete Vi dà più vita E vi dà più forza Nel senso fate più danno Se io adesso faccio 756 Adesso quanto faccio 1600 Faccio di più vedete Ti migliora Ti migliora la vita Vedi Prima avevo 3000 di vita Ora 4000 Hai più vita e più forza Fai più danno E sopra il nome ti dice quanti ne hai A me adesso dice che ne ho 2 Adesso ne avrò 4 Ecco E prima ero a 4040 Adesso sono a 4840 Allora ne ho c'è spugli Siamo tutti invisibili Come so fortnite Contro finale Siamo 1v1 Eh ma mi sa che perdo È lì Ha più paura di me Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho 10 10 coppe più Queste qua sono le missioni Queste qui che state vedendo adesso Ok lobby Abbiamo il Brawl Pass Come potete vedere Sono nella pagina 6 E niente Allora facciamo l'ultima partita L'ultima partita Direi di buttarci in K.O. Ok Aspettando i giocatori Ok Eccoci qua K.O. Sconfiggi brawler nemici La squadra nemica Allora I nemici Sono rossi Io sono verde E i compagni di squadra Invece sono blu Loro non sono bot Sono persone reali Non sempre sono bot La maggior parte sono reali Quindi adesso Vorrebbero essere reali Ok No Volevo mettere La mia super E più fuori danni Alle persone E si carica Quella cosa gialla La sarebbe la super Io la chiamo super Vabbè Abbiamo perso il round Va bene Questi qua erano belli forti C'è da dire Che erano forti Ok L'uccidiamo Quello No Sono morto Eh È due contro uno Abbiamo perso No 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 Perché guardavo Dall'altra parte No Dai Si Fammi andare avanti Ok ragazzi Ci mancano Due vittorie Fra due vittorie Ci dovrebbero dare Un brawler In teoria Dei premi Quindi Adesso faccio Due partite Due vittorie Scusate Faccio queste due vittorie E noi ci becchiamo A dopo No Sì L'uccisa No Sì 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 L'ho ucciso Da morto Vabbè Momento saliente Sì I migliori momenti Lobby Lo sapevo Dai Epico Dai Sono monete Scommettete Oh Due gettoni Va bene ragazzi Per oggi È tutto Like e iscrizione Mi raccomando E attivate Tutte le campanelline Ciao 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 Ciao